abilitare prelievo American Express. Ciao a tutti e benvenuti al nostro video su come abilitare il prelievo con American Express. Se siete titolari di una carta American Express, saprete che questa carta offre numerosi vantaggi, tra cui l'accesso a servizi di prelievo di contante. Ma sapete come attivare questo servizio? In questo video vi mostreremo come abilitare il prelievo con American Express in pochi semplici passaggi. Prima di tutto, perché dovreste attivare il prelievo con American Express? Beh, il prelievo di contanti può essere molto utile in situazioni di emergenza o quando non si dispone di altre opzioni di pagamento. Con American Express avrete la sicurezza di poter prelevare denaro ovunque vi troviate, grazie alla vasta rete di sportelli Bancomat che accettano la carta. Quindi, come abilitare il prelievo con American Express? In primo luogo, dovrete verificare se la vostra carta è idonea per il prelievo di contanti. Potete farlo contattando il servizio clienti di American Express o accedendo al vostro account online. Una volta verificata l'idoneità, potrete impostare il codice PIN necessario per effettuare i prelievi. Ora, la parte divertente. Potrete finalmente prelevare denaro ovunque vi troviate. Grazie alla vasta rete di sportelli Bancomat compatibili con American Express, potrete prelevare denaro ovunque vi troviate. E il meglio di tutto, il servizio è gratuito per i titolari di carta American Express. Inoltre, American Express offre anche un servizio di prelievo in contanti senza carta, chiamato Express Cash. Con questo servizio, potrete prelevare denaro anche senza la vostra carta, semplicemente utilizzando il vostro numero di carta e il codice di sicurezza. Questo è particolarmente utile in caso di smarrimento della carta o quando non la si ha con sé. In sintesi, l'abilitazione del prelievo con American Express è un modo semplice e conveniente per accedere ai propri fondi ovunque ci si trovi. Con la vasta rete di sportelli Bancomat compatibili e il servizio Express Cash, American Express offre una soluzione completa per le esigenze di prelievo di contanti dei suoi clienti. Quindi, non esitate. Attivate il servizio oggi stesso e godetevi la tranquillità di sapere di poter prelevare denaro ovunque e in qualsiasi momento. Grazie per aver seguito il nostro video e alla prossima. Grazie per aver guardato questo video. Se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi. Da qui vi auguriamo una buona giornata.